Il loro nome è Totem, sono sei, sono sparsi tra le vie e piazze di Pachino e sono costati in totale 11.000 euro. Ma di fronte alla cultura e alla storia della tua città non si deve badare a spese, giammai! Specialmente quando parliamo niente po' di meno che di Vitaliano Brancati, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e saggista italiano, nato appunto a Pachino il 24 luglio del 1907. E fin qui nulla di male, anzi, il problema invece nasce quando i sei totem installati a Pachino tutti riportano degli errori. Tutti perché, per esempio, in ognuno di essi è riportato nella pianta della città, in cui è tracciato l'itinerario brancatiano tra la via Garibaldi e la via Indipendenza, la scritta Ufficio Postale di Marzamemi, che, come si può intuire, non ha nulla a che vedere con Pachino. Ma mettiamoci nei panni del turista che vuole spedire magari una cartolina di buone vacanze da Pachino, salutemi anche tua suocera, ma ignaro che A non troverà mai l'Ufficio Postale di Marzamemi a Pachino e B non troverà nemmeno l'Ufficio Postale esistente. Sarà poi sicuramente il suo iPhone collegato a Google Maps ad aiutarlo nell'indicargli la retta via. Ma tralasciando questa piccola bazzecola postale, i veri grandi errori si registrano in tre totem. Iniziamo con la foto che compare nel totem, posto davanti alla casa del nonno, in via Francesco Garrano, che non si riferisce alla vecchia abitazione del Lavo Brancatiano, bensì ad una casa di via Torino 45, abitata un tempo dal concittadino Giuseppe Scattarelli, o meglio conosciuto come Purtuso. Altro strafalcione sul totem collegato in via Garibaldi riguarda la farmacia del dottor Corrado Brancati, che non c'entra nulla con la vecchia farmacia del Prozio, ma riporta l'immagine della facciata di una casa di via Durando 163. Ed ancora, infine, la foto del tondo, utunno, è in realtà quella del campo sportivo comunale. Sullo sfondo si intravedono alcune case di periferia, vicine al tondo, che però non viene inquadrato, perché posto un po' più a destra. In molti hanno fatto notare gli strafalcioni all'assessore alla cultura Gisella Calì, che ha prontamente risposto «I totem, lungi da qualunque pretesa topografica, indicano sei punti del nostro paese citati nell'opera dello scrittore. Le immagini che fanno parte del progetto grafico non contengono nessuna didascalia e non possono essere fraintese, se non con molta fantasia». Ha ragione l'assessore, è la fantasia che ci frega, l'immaginare e l'inimmaginabile, correre con la mente modificandone la storia. Sì, la storia e la vita, anche di vita le hanno brancati. Grazie. 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 Grazie.